Musica Incidente su Lungomare Mazzini, si ribalta un doblò. A Pantelleria è arrestato un 46enne per coltivazione di marijuana. Scendono i positivi in provincia di Trapani. Continua la campagna di vaccinazione. Traffico a Tonnarella interviene il comandante della Polizia Municipale. Ben ritrovati amici telespettatori, nuova edizione del Tg8, informazione sul canale 190 del Digitale Terrestre. In incidente stamane intorno a mezzogiorno sulle Lungomare Mazzini, un doblò in direzione verso Bocca Arena, ha finito la sua corsa su un fianco dopo un leggero urto con un'altra autovettura che invece proveniva dalla via San Salvatore. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani che ancora ora regolano la viabilità del tratto e i vigili del fuoco. Non dovrebbero essere gravi le condizioni dei conducenti. Ovviamente utilizziamo il condizionale perché è ancora tutto in essere, anche se comunque dalle notizie che sono giunte in redazione non dovrebbero esserci particolari conseguenze per i conducenti. Spostiamoci adesso a Pantelleria dove è stato arrestato un 46enne in quanto coltivava una nuova varietà di marijuana afghana. Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pantelleria perché coltivava una nuova varietà afghana di marijuana in un terreno adiacente alla sua abitazione privata. Negli ultimi tempi i controlli dei carabinieri hanno portato alla denuncia di diversi residenti di Pantelleria, soprattutto giovani, per la produzione di sostanze stupefacenti. Molti di loro si sono dedicati infatti alla coltivazione di piantagioni fai-da-tè di cannabis indica nella nuova varietà afghana cash. Si tratta di una pianta ad alto contenuto di THC, lo stesso principio attivo della marijuana capace di provocare nei consumatori effetti fisici intensi con uno stordimento caratterizzato da un profondo senso di quiete e un forte rilassamento. Queste piante sono originarie delle zone montuose dell'Indu Kush al confine tra Afghanistan e Pakistan e si stanno diffondendo nel nostro paese a causa di un'elevatissima domanda di mercato. Inoltre le ridotte dimensioni degli arbusti, che sono di circa mezzo metro di altezza, ne facilitano l'occultamento per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Durante l'ultima operazione di controllo, i carabinieri, allertati dal forte odore, hanno individuato diverse piante di canapa afghana in un terreno di un'abitazione privata. Le piante erano alla fine del loro ciclo produttivo e pronte per la raccolta. L'uomo che le coltivava è stato arrestato, mentre le piante sono state distrutte. L'arresto è stato convalidato nella giornata di sabato scorso ed è stata inoltre applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria dell'unico deposito di carburante presente all'aeroporto di Lampedusa rischia di avere conseguenze anche molto gravi per la nostra comunità, sia dal punto di vista turistico e quindi per l'economia dell'isola, ma soprattutto dal punto di vista sanitario, dal momento che senza l'utilizzo dell'impianto non è possibile assicurare il regolare rifornimento delle elieambulanze del 118. A dirlo il sindaco di Lampedusa Martello che ha scritto al governo su questa vicenda. E a Custonaci i carabinieri salvano la vita di una donna colta da malore. Il servizio. Il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Custonaci ha evitato tragiche conseguenze ad una donna colta da malore. I carabinieri si erano recati presso lo Sprar di Custonaci dove era stata segnalata una rissa in corso tra gli ospiti della struttura. Giunti sul posto, gli operanti si erano subito impegnati a separare i contendenti e a calmare gli animi, quando improvvisamente una donna, 29enne di origini tunisine, anch'essa ospite della struttura e non coinvolta nella rissa, si è accasciata al suolo in preda ad una crisi epilettica. I carabinieri sono accorsi prontamente verso la donna che presentava difficoltà nella respirazione a causa del ripiegamento della lingua e aveva il battito molto debole. La circostanza ha colto di sorpresa sia gli operatori della struttura che gli altri ospiti in quanto la 29enne non aveva mai rappresentato di avere sofferto in passato di questo disturbo e nessuno era preparato a fronteggiare una situazione di questa gravità. Il pronto intervento dei militari presenti ha permesso di soccorrere la donna liberando le vie respiratorie e ponendola in posizione laterale di sicurezza, proteggendo nel contempo il capo e gli arti al fine di prevenire eventuali lesioni traumatiche. All'arrivo del personale del 118 la donna è stata condotta presso l'ospedale di Trapani da cui è stata dimessa al termine degli accertamenti clinici in buone condizioni di salute. Il personale medico si è complimentato con i militari operanti per la prontezza dell'intervento e la corretta applicazione delle procedure salvavita in caso di crisi epilettiche. Torna l'incubo incendi a Erice, paura tra i residenti, le fiamme sono state domate nella notte. L'incubo incendi per Erice è tornato, un vasto rogo alimentato anche dalle forti raffiche di Scirocco nelle scorse ore ha coinvolto la montagna partendo dalla macchia mediterranea alle spalle della Cittadella della Salute poco sopra l'ospedale Sant'Antonio Abate nel territorio di Erice e Casasanta. Il fronte del fuoco è risalito poi verso il lato del Castellazzo sotto il Belvedere di Martogna per poi dirigersi nel versante di San Cusumano in una zona dove ci sono diverse abitazioni. Oltre alle squadre impegnate a terra di vigili del fuoco e protezione civile la prefettura ha operato per ore un elicottero a cui si sono aggiunti due Canadair e in serata ne sono arrivati altri due per evitare il peggio. Visibile dal mare già ieri pomeriggio una lunghissima lingua di fuoco mentre bagnanti e residenti delle zone di villeggiatura osservavano con ansia le fasi di spegnimento. Dopo gli interventi di spegnimento nella notte la situazione è tornata alla normalità. E parliamo adesso di coronavirus. Scendono ancora i positivi in provincia di Trapani. A stamattina il bollettino registra 371 casi positivi. Ovviamente sono gli attuali positivi in tutte le città della provincia. Su queste Marsala con 68 positivi, poi Trapani con 56, Mazzara 55 e via tutte le altre. Castellammare e il Golfone a 3, Campobello di Mazzara a 10. Quindi numeri in netto miglioramento che non debbono far abbassare la guardia ma ovviamente devono comunque far bene sperare. Soprattutto perché continua la campagna di vaccinazione. Ricordiamolo, dalla settimana scorsa si è aperto anche per gli over 16 quindi andiamo a fare il vaccino. Tanto che in Sicilia per quanto riguarda la probabile terza dose da inoculare del vaccino si pensa ovviamente di affidarla ai medici di base o alle farmacie. Il servizio. Il sogno è completare l'immunizzazione di tutti i siciliani a settembre. E nell'isola c'è per la prima volta un piano di lungo periodo che dà per scontato sia necessario almeno un secondo e un terzo giro di vaccinazioni puntando sullo spostamento delle somministrazioni dai medici di famiglia e nelle farmacie. Le prime riunioni in assessorato di Ruggero Razza tornato in sella dopo le dimissioni dovute all'avviso di garanzia nell'inchiesta sui dati falsi dei morti per Covid hanno portato ad una nuova roadmap per la Sicilia. L'obiettivo è arrivare a fine giugno con la metà della popolazione che ha ricevuto almeno la prima dose a detto Razza. Oggi ad avere avuto almeno una somministrazione il 40% dei siciliani. La tabella di marcia punta a fare in modo che durante l'estate ci sia il colpo di reni decisivo per arrivare in autunno con una immunizzazione di massa o quasi. A quel punto, ha ammesso anche l'assessore, è necessario cominciare a prevedere che si debba ricominciare a vaccinare da capo tutti quelli che hanno avuto entrambe le dosi. Questo perché l'effetto del siero dovrebbe esaurirsi prima di un anno. E anche la marineria di Mazzara del Vallo aderisce alla giornata nazionale di protesta della pesca italiana promossa per sabato 12 giugno dall'Alleanza delle Cooperative Italiane. Contemporaneamente alle 10.30 si terranno due iniziative, una presso la Fondamenta Zattere di Venezia e l'altra in Piazza della Repubblica a Mazzara del Vallo. La protesta è contro il piano di riduzione del carico di pesca. Il nostro settore viene indicato come principale causa e non unica dello stato di sofferenza degli stocchi ittici del Mediterraneo, dimenticando però le varie forme di inquinamento, le attività di trivellazione petrolifera, l'intenso traffico navale marittimo, la cementificazione delle coste, il conseguente è ovviamente il cambiamento climatico. Continuando così, ha detto la Gipesca, gli armatori non potranno far altro che chiudere e far sbarcare gli equipaggi. Espostiamoci adesso a Mazzara del Vallo, tante le segnalazioni che ci sono giunte in relazione in merito agli ingorghi che si sono creati in questi giorni a Tonnarella per ritornare in centro. Ieri abbiamo sentito telefonicamente il comandante Coppolino che ci ha spiegato cosa stanno facendo. Ci spiace per gli ingorghi che si sono verificati in questi giorni nella Via del Mare e in Via Bessarione e ci scusiamo con automobilisti e centauri per le lunghe attese semaforiche. Siamo consapevoli del disguido e avevamo per tempo allertato l'azienda che gestisce gli impianti semaforici cittadini per il cambio di codici negli incroci tra Via del Mare e Via Bessarione e tra la via Mariofani e la stessa via Bessarione. Attraverso il cambio dei codici allungheremo il tempo del verde per raggiungere il centro cittadino in modo tale da garantire una maggiore fluidità del traffico veicolare. A dirlo telefonicamente alla nostra redazione il comandante della Polizia Municipale di Mazzara del Vallo il colonnello Salvatore Coppolino sulla questione del traffico veicolare di Tonnarella a seguito del cambio di senso di marcia sul lungomare Fata Morgana. Una nuova viabilità che ha creato non pochi disagi ai cittadini mazzaresi che in questi giorni hanno manifestato le loro rimostranze con segnalazioni alla nostra redazione. La ditta incaricata, proseguito il comandante, già nella giornata di domani dovrebbe effettuare gli interventi programmati. Siamo certi che tali accorgimenti renderanno più fluido il traffico e meno snervanti le attese. Continueremo a monitorare la situazione a concluso e non è da escludere ulteriori interventi nelle prossime settimane qualora si ritenessero necessari. E dal traffico di Tonnarella all'aumento della tariffa dei rifiuti, altro tema caldissimo in questi giorni in città, sull'argomento è intervenuto Gian Paolo Caruso di Fratelli d'Italia. La mia opinione la ribadisco rispetto a quella che ho detto già ieri, insomma in questi giorni. Con questa amministrazione mi viene da dire che la tariffa sui rifiuti non poteva che aumentare. Parliamo ovviamente dei costi in bolletta, così con una battuta, anche se sappiamo tutti quanti benissimo che non c'è nessun sorriso da tirar fuori. Noi abbiamo un'amministrazione che ha deciso, con giustificazioni secondo me fuori dalla realtà, che bisognava aumentare il costo della bolletta per cittadini e per imprese. Ovviamente è sicuramente una decisione in controtendenza con quello che cittadini e imprese si aspettavano all'uscita da questa pandemia di tipo sanitario e certamente anche di tipo economico. Cioè si aspettavano un aiuto, non certo una mazzata fra cap e collo di questo genere. E io ricordo perfettamente che quando ero consigliere comunale ed ero il capogruppo della maggioranza del sindaco Cristaldi affrontavano il problema della riscossione di questi tributi votando un atto di indirizzo che prevedeva l'esternalizzazione dell'estervizio della riscossione. E dall'altra parte c'era ovviamente l'opposizione che faceva le barricate, tra questi anche l'attuale assessore al bilancio allora consigliere del PD che insieme a tutta l'opposizione immaginava invece di porre altre soluzioni, per esempio rinforzare l'ufficio tributi il che avrebbe portato a delle migliorie. Siamo a due anni di questa amministrazione, abbiamo un assessore al bilancio nuovo e in merito a questa situazione non mi risulta, avendone avuto possibilità di attuare soluzioni che abbiano potenziato l'ufficio tributi e non mi risulta che abbiano trovato soluzioni migliori. Quel che risulta ad oggi è che hanno semplicemente aumentato la tariffa. Insomma, un'amministrazione che da due anni a questa parte brancola nel buio però quando deve tartestare i cittadini ci vede benissimo. Io ricordo che avevamo ai nostri tempi combattuto perché si avesse un servizio migliore e al tempo stesso eravamo riusciti anche a ridurre i costi in bolletta. Quindi come vedete c'è una controtendenza che è chiaro tranne a chi fa finta di non vedere. Io penso che i cittadini ormai abbiano preso atto che così non si può andare avanti e certamente hanno preso atto anche le nostre imprese. Io in questo caso voglio anche spezzare una lancia in favore soprattutto a quelle imprese che di questi tempi adesso in estate diciamo fanno parte del grande sistema dell'accoglienza turistica. Quindi mi riferisco per esempio insieme agli altri o non più di altri se volete alla ristorazione, ai pub, ai bar insomma tutti quelli che sono un po' più strettamente legati al turismo. Rimango così in parte scioccato in parte a bocca aperta ma in realtà non mi aspettavo nulla più di tanto. Prendiamo atto che la scelta del sindaco di cambiare gli assessori magari alla volontà di imprimere una accelerazione ha portato al risultato che vediamo in questo campo e in tanti altri. Purtroppo più che un sorriso c'è da fare un altro boccone amaro. E cambiamo decisamente argomento il Centro Diocesano delle Vocazioni promuove il campo estivo diocesano con l'obiettivo di stimolare la creatività e le risorse già presenti nei ragazzi e nelle ragazze che attendono di riemergere in tutta la loro bellezza. Attraverso giochi, momenti di preghiera e di condivisione svago, attività e riflessioni sarà possibile fare un breve ma intenso cammino di rinascita alla scoperta delle proprie paure e dei propri sogni. Le giornate previste saranno dal 21 al 23 luglio presso l'Oasi Santa Bartolomea rampa in serie a Santa Ninfa. E ieri si è giocata la seconda giornata del doppio triangolare per i play-off del campionato di eccellenza. Mazzara-Canicatti 0-0 il risultato per quanto riguarda il triangolare 1 e Nissa-Folgore 0-0 per quanto riguarda il triangolare 2. Nulla di compromesso per la formazione del presidente Titone che vi annuncio avremo nei prossimi giorni in redazione. nulla di compromesso, dicevamo adesso l'unico vero obiettivo per poter accedere alla finalissima dei play-off è quello di andare a vincere a San Cataldo domenica prossima. Ma noi vediamo gli highlights e le dichiarazioni a termine della gara. Un cordiale saluto dallo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo qua da Matteo Licata e Piero Campisi immagini a cura di Giuseppe Maltese per la seconda partita di play-off del campionato di eccellenza Gironea Sicilia tra Mazzara e Canicatti. Il calcio d'inizio sarà dato dal Mazzara inizia in questo momento la partita con Cortese che ha subito dato il pallone a Grandis che cerca subito un'apertura. Poi si va da Lombardo si ricomincia da Sissé a cercare Guayana Grandis cerca un cross c'è l'uscita di Gudo che non si è capito con un suo difensore. Allora siamo da Rose sì potrebbe essere lui anche se c'è qualche altro pronto vediamo il tiro e il gol no siamo stati ingannati dal movimento della rete assolutamente no il pallone veramente ha dato l'illusione del gol allora cerca Rose di andarsene dribbla uno ancora Rose cerca di andarsene si inserisce Cortese e c'è fuori gioco secondo l'assistente Mazzara batte calci di punizione un cross colpo di testa c'è la parata di Gudo ma è fuori gioco secondo l'assistente dell'arbitro Canicatti ora cerca un contrapiede vediamo ancora il Canicatti siamo da Mario Erbini Mario Erbini attenzione il tiro esterno della rete ma che rischio ancora Greco che trova Calernicchia passaggio rischioso ma trova comunque Angelo Caronia Angelo Caronia è il tiro non va tiro a lato poi c'è Di Gregorio Rose ancora Rose il cross verso Cortese anticipato all'ultimo Cortese incredibile ben ritrovati dallo stadio comunale Nino Vaccara di Mazzara del Vallo sempre con Matteo Licata Piero Campisi immagina cura di Giuseppe Maltese è già cominciato il secondo tempo tra Mazzara e Canicatti pronto a questo corner a difficoltà forse a trovare il mattoncino giusto Grandis vediamo Grandis colpo di testa di Abate non riesce a dare la sferzata scatta Giamme fa una finta Grandis vediamo il colpo di testa di Abate Cortese fuori gioco fuori gioco fuori gioco secondo l'assistente vediamo Guayana stoppa con un po' di difficoltà Abate ancora lui buono Abate il tiro parata da Guddo senza grossi problemi a campo Morana Morana cerca di andarsene viene fermato la Caternicchia e poi viene saltato ma Morana riesce a rimettersi davanti al pallone il tiro Guayana di poco alto che occasione Di Gregorio Guayana di petto Rose Rosella ribattuta dalla difesa Allora Genesio di poco alto il tiro di Genesio al minuto numero 17 del secondo tempo batte Angelo Caronia colpo di testa della difesa di Mazzara poi Greco e gli essi miracolo di Sisse Agate colpo di testa è già me di poco alto Grandis cambia dalle parti di Elton Ogbebor buono dribbling di Elton Elton vediamo verso Gudo che interviene Agate aiutato anche da Elton con questo e pallone Agate Agate il tiro di Agate senza forza e Gudo senza problemi fermato da Di Gregorio no perché va avanti di Mercurio vediamo colpo di testa di Raimondi non va perché ci abbatte tripice fischio il Canicattì rimane in eccellenza mentre invece Mazzara dovrà giocarsi tutto per tutto a San Cataldo e non sarà affatto semplice partita molto bella terminata con il risultato di 0 a 0 quando siamo arrivati al 53esimo del secondo tempo di fatto dallo stadio Nino Vaccara Matteo Licata Piero Campisi e le immagini di Giuseppe Maltese un cordiale saluto a tutti e con lo sport si chiude questa edizione del nostro TG io vi lascio con la programmazione di Telehot vi do appuntamento alla prossima edizione la prossima Grazie per la visione!